I democratici polemizzano il Movimento 5 Stelle, sono incoerenti, sostiene Dinka, è dall'8 gennaio che chiediamo che venga in aula. Il Movimento 5 Stelle è stato il primo a chiedere che il Ministro venisse a riferire in aula e né Boldrini, né il Governo hanno ritenuto necessario prendere provvedimenti in merito. Oltretutto il Ministro De Girolamo non deve venire a riferire solo per la questione benedentana per quanto ci riguarda, ma ci sono anche altre questioni legate al Ministro dell'Agricoltura e agli enti vigilati come Agea e Sin. Grazie.